Buona buona serata ragazzi, spero abbiate seguito la mia live che è finita più o meno un'oretta fa Chi vuole essere milionario sullo sport, il quiz sullo sport, ha vinto Luigi Migliaccio la prima puntata, diciamo così, di Chi vuole essere milionario sullo sport domani lo riproporremo alle 17.15 con domande che saranno un po' più difficili quindi attenzione perché il grado di difficoltà domani si innalza quindi insomma preparatevi, preparatevi per domani ma la cosa che vi volevo dire è un'altra perché dopo la risposta che ho ricevuto da Alex Vinatzer un altro sciatore mi ha risposto tra tutti gli atleti che ho contattato evidentemente porta bene il fatto che riesca a contattare degli sciatori perché mi ha risposto Simon Maurberger e anche lui è disposto a ascoltare le nostre domande quindi gli manderò una carrellata di domande come a Vinatzer alcune chiaramente saranno di mia produzione alcune saranno vostre quindi voi come con Vinatzer potete interagire con Simon Maurberger lui risponderà verosimilmente con un video e quindi come con Vinatzer il video uscirà qui sul canale e quindi avremo due interviste a due altoatesini a Vinatzer e Maurberger per prepararsi al meglio magari alla prossima stagione sciistica con soprattutto una grande infarinatura delle discipline tecniche soprattutto sullo slalom con due nostre promesse come Alex Vinatzer e Simon Maurberger che in questa stagione insomma ha completato una buonissima crescita culminata con il bellissimo secondo posto scusate quinto posto a Schladming quindi insomma appunto rivolgete le vostre curiosità a Simon Maurberger e io cercherò di prendere in considerazione tutte le vostre domande per rivolgerle poi al classe 95 azzurro appunto una valangre mi piace al video iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto io vi auguro una buona serata vi ricordo anche l'appuntamento per domani sera con le dirette Instagram domani sera l'appuntamento è per le 17.15 sempre su Instagram chi vuole essere milionario versione sport e quiz sullo sport il primo vincitore lo abbiamo già avuto ecco stasera scusate domani ci sarà magari un altro vincitore ma dovete partecipare in massa io sceglierò chi dover come dire far soffrire nel mio quiz comunque non succede niente ragazzi potete benissimo partecipare tutti e a questo punto arrivederci al prossimo video